Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura vi raccontiamo un arresto della polizia stradale di Arezzo che ha sorpreso una 25enne in a uno con 20 grammi di shabu. In tasca aveva 20 grammi di shabu, la cosiddetta droga dei kamikaze della famiglia delle anfetamine, diffusa soprattutto nelle comunità asiatiche, molto potente ma anche costosissima. Il suo prezzo di mercato, a seconda della purezza e della provenienza, oscilla infatti dai 100 ai 500 euro al grammo. A fermarlo ed arrestarlo gli agenti della polizia stradale in a uno. L'uomo, un 25enne italiano, è stato fermato a bordo di una Fiat 500 L. Allo stop è apparso subito, terrorizzato e così è stato perquisito. Dai pantaloni sono saltati fuori due involucri di cellofan contenente lo stupefacente, ovviamente sequestrato. Sempre poliziotti della sottosezione di Battifolle hanno poi fermato anche una banda dedita ai furti nelle auto in sosta. Gli agenti, insospettiti dal fatto che la loro vettura risultava da giorni ferma all'interno di un autogrill, si sono appostati per fermarli e controllarli. Dentro c'erano numerose apparecchiature elettroniche, pc, cellulari e tablet rubate nelle auto in sosta all'autogrill. I tre sono stati così fermati per ricettazione ed accompagnati in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Due donne invece sono state sottoposte alla misura dell'obbligo di firma dall'autorità giudiziaria a seguito di una complessa indagine portata avanti dai carabinieri di Cavriglia. Le due, secondo quanto ricostruito, sarebbero ritenute responsabili di almeno dieci furti commessi in vari comuni del Valdarno Arettino. Tanti casi presi in considerazione, due più significativi, il primo il furto di uno zaino in un'auto in sosta, un colpo fruttato oltre ai contanti, anche un buono di un'agenzia di viaggi dal valore di 550 euro e dal quale erano partite le indagini. Un secondo episodio a Montevarchi quando le due donne erano state invece notate a rubare da una carabiniere fuori servizio. E sempre in Valdarno i militari della Guardia di Finanza hanno concluso una serie di interventi nel centro storico di Montevarchi concentrandosi su alcune abitazioni sospettate di essere locato o suballocate in nero. In effetti in una circostanza è stata scoperta una piccola unità abitativa diventata una casa iper affollata nonostante le dimensioni con stanze loculo allestite per ospitare persone che abitavano irregolarmente all'interno. E restiamo in Valdarno dove un bagnino ha salvato la vita ad una bimba di 4 anni grazie a tempismo e sangue freddo. Pochi attimi per salvare la vita ad una persona. Come ci si sente? Ci si sente bene. Pochi secondi, quelli necessari a salvare una vita. Ancora una volta in provincia di Arezzo il tempismo e il sangue freddo hanno scongiurato un drammatico epilogo. È successo in una piscina del Valdarno Aretino nel cuore di Terra Nuova Bracciolini. Qui una bambina di 4 anni che frequenta i campi estivi si è sentita male mentre era in acqua, forse un colpo di calore. Ero qui allo scivolo dei bambini quindi siamo stati subito in grado di vedere la bambina che si è sentita male e cascata dentro l'acqua. L'abbiamo salvata nell'arco di 3-4 secondi e l'abbiamo tirata fuori dall'acqua. Non c'è stato bisogno praticamente di tuffarsi, l'acqua infatti in quel punto è bassa. La piccola aveva perso i sensi e non era cosciente. Immediato l'allarme al 118. Abbiamo iniziato subito le prime manovre qui fuori dall'acqua e nell'arco di 5 minuti è arrivata l'ambulanza. Ha perso conoscenza quindi hai fatto anche il massaggio cardiaco alla bambina. In volo anche Pegaso. La piccola è stata trasportata in codice verde al Meyer di Firenze. È rimasta in osservazione ma sta bene questa mattina è stata dimessa. Lo spavento adesso lascia posto al sollievo. L'occupazione è per tutti ma però è stata una storia che è finita a lieto fine. Siamo contenti anche di tutto il nostro staff che ha fatto un primo intervento molto tempestivo. Sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Arezzo verso Roma è stato temporaneamente chiuso il traffico. Questo pomeriggio a causa di un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 349 che ha visto coinvolti due mezzi. Uno infatti ha urtato la barriera a sparti traffico e invaso anche la carregiata opposta disperdendo il carico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici sanitari, le pattughe della polizia stradale e il personale di autostrade per l'Italia. Una chiusura che inevitabilmente ha causato chilometri di code. Dopo le segnalazioni di falsi tecnici, Nuove Acque lancia un appello ai propri utenti, ossia di chiedere sempre al tesserino di riconoscimento. Lo scorso mercoledì infatti un truffatore si era finto, un tecnico aveva provato a derubare un cittadino dicendo che era sversato acido nelle condutture e che doveva uscire rapidamente di casa. Da qui l'appello di Nuove Acque che informa che nessun tecnico della società viene inviato nelle abitazioni senza preavviso e che la competenza non va oltre il contatore. Infine raccomanda sempre di invitare l'operatore a esibire il tesserino di riconoscimento. Se le generalità non saranno confermate sarà opportuno, fa sapere, contattare immediatamente le autorità competenti per denunciare il fatto. E adesso cronaca giudiziaria è stata assolta per non aver commesso il fatto la segretaria della FISA, Cat Cisle Arezzo, Maria Rosari Esposito, che è stata giudicata dalla magistratura incaricata ad esprimersi sulla vicenda del Consorzio di Cooperative Rises. La Cisle Aretina, tramite le parole della segretaria provinciale Silvia Russo, esprime adesso il compiacimento per la definizione del procedimento dove è emersa la completa estranetà ai fatti della segretaria. Parliamo adesso dell'avvertenza FIM a Razzì Profila, la cessione ad un fondo inglese, ma per chiudere l'operazione serve l'ok del Tribunale di Milano, ma intanto il CDA ieri pomeriggio si è presentato in azienda per parlare con lavoratori e sindacati per spiegare loro il piano di rilancio. C'è ancora un atteggiamento di incredulità da parte di molti e noi speriamo che la nuova situazione permetta di eliminare questo problema. Dopo mesi di incertezze, lavoratori e sindacati vogliono vederci chiaro, sono state troppe le delusioni che si sono susseguite per accogliere con calore l'ultimo annuncio del CDA dell'azienda. Martedì pomeriggio è stato infatti proprio uno dei consiglieri della FIMER, Luca Bertazzini, che da giorni gestisce in prima battuta il confronto a presentarsi ai cancelli dell'azienda di Terra Nuova Bracciolini. qui ha incontrato prima i dipendenti, poi i sindacati, per illustrare il piano di rilancio che passa dal fondo inglese Clementi. È un fondo che verserà nelle casse della FIMER degli investimenti cospicui. Parte da presupposti diversi, un inserimento nella società in termini di equity, cioè di capitale, di una cifra importante che si aggirerà nell'intorno di 95 milioni e questa è veramente una cifra significativa. Già depositato il contratto siglato con Clementi, l'ultima parola aspetterà adesso al Tribunale di Milano. Dopodiché daremo immediatamente esecuzione in modo da avere quanto prima possibile una disponibilità finanziaria commessa da Clementi nell'intorno di 17 milioni di euro, parte dai 95, che sono assolutamente indispensabili per permetterci il proseguimento dell'attività. Questo ammontare di denaro importante si articolerà in due tranche, la prima da 7 e la seconda da 10 e tutto questo dovrebbe avvenire nell'arco dei prossimi giorni. Un'iniezione di liquidità fondamentale per la ripresa della produzione, ferma dallo scorso lunedì per mancanza di materie prime. La produzione è l'angue, proprio perché non riusciamo a sbloccare il supply dei componenti che sono ospitati presso magazzini e soprattutto presso trasportatori e naturalmente abbiamo bisogno di danari per pagare il loro servizio e quindi sbloccare questa merce. I sindacati e le RSU chiedono chiarezza invece la convocazione urgente al Ministero delle Imprese del Made in Italy alla presenza di tutti i livelli istituzionali del fondo Clementi. Per noi, ormai impegnati e stressati da questa lunga avvertenza, la mancanza di chiarezza è sempre sintomo di future nuove spiacevoli sorprese, fanno sapere tramite una nota. Da qui la richiesta di incontro è necessario, proseguono il massimo livello delle politiche economiche e industriali del sistema paese e sorvegli con noi assieme al Tribunale di Milano questa avvertenza per responsabilizzare chi compie queste scelte, portando a capire l'urgenza di concretizzare quanto enunciato e non de-responsabilizzare, concludono in virtù di variabili successive. Restiamo in avvaldarno per parlare di un'altra importante azienda del territorio, ovvero Prada, che ha deciso di premiare i rendimenti di oltre 4.000 addetti, di cui 2.400 si trovano nel territorio provinciale aretino. Il gruppo Prada ha deciso di premiare il rendimento degli oltre 4.000 addetti sul territorio nazionale, di cui 2.400 si trovano nella sola provincia di Arezzo, tra gli stabilimenti del Valdarno e quello aretino. La decisione è frutto di un accordo nazionale triennale 2023-2025 tra sindacati ed azienda, che in questo momento prevede importi diversi in base alla sede, ma che verranno armonizzati nel corso di 4 anni, comprese le recenti acquisizioni. Si concilia sia una parte economica che una parte, diciamo, in welfare, così tanto amato il linguaggio inglese, che in Prada si traduce nell'utilizzo di una parte economica all'interno di una piattaforma propria, che è la piattaforma AON, un premio che per Arezzo si tradurrà in 1.150 Euro l'orde, più 1.300 Euro in welfare, quindi nella piattaforma, per il Valdarno è 1.350 Euro, sempre con 1.300 Euro aggiuntive nella piattaforma AON. Quando il welfare non si sostituisce al salario, ma in qualche modo è complementare, o comunque di ausilio ai lavoratori, non possiamo che sposare certe iniziative che si traducono in disponibilità maggiore per tutti i lavoratori. E quindi pienamente soddisfatti, perché andiamo in corto a un processo di armonizzazione che in termini di tre anni riuscirà ad includere tutti gli stabilimenti sul territorio nazionale, porterà tutti ad avere un'unica cifra economica che saranno 1.450 Euro da nord a sud, quindi un processo di armonizzazione in termini di premialità, ma anche di parte normativa. Passiamo alla politica in Casentino, a Italia Viva rispondere al Partito Democratico in merito alla polemica che si era sollevata dopo il comunicato della scorsa settimana sulla decennale carenza di infrastrutture della vallata. Noi rivendichiamo con orgoglio, fanno sapere, la ferma volontà di batterci per conservare in Casentino aziende e posti di lavoro. A noi interessa, prosegue Italia Viva, che vengano finalmente affrontati due temi importanti. Il primo è quello di fornire la possibilità di arrivare a Firenze nel minor tempo possibile. Il secondo è la realizzazione della bretella che dalla chiassa permetta di arrivare direttamente al casello autostradale di Arezzo. Due opere indispensabili che dovrebbero essere al centro delle azioni istituzionali di tutti i partiti. Vanno peraltro, pertanto, evitate sterili polemiche politiche che concludono per metterci tutti assieme al lavoro con un unico obiettivo. E adesso passiamo alla pagina della cultura, torna in città e in provincia le note delle terre di Arezzo Music Festival, quest'anno giunto alla sua diciottesima edizione. Sulle note dell'Assemble Dorati è stata presentata la diciottesima edizione del Terre d'Arezzo, un festival dove la grande classica è la solista di un magnifico concerto di arte, cultura, storia e paesaggio. 32 gli appuntamenti in programma sino al prossimo 7 settembre, in location suggestive a partire dai palazzi storici e le chiese del centro storico aretino ai tesori dell'intera provincia. Abbiamo tutta una sezione di concerti che si svolge nella città di Arezzo e più propriamente è l'Arezzo Organ Festival, quindi dedicato alla musica d'organo, il concerto anche più importante della nostra rassegna che sarà nella Basilica di San Francesco il 14 di luglio con la presenza della Cappella Marciana della Basilica di San Marco a Venezia. Un programma straordinario dedicato a Claudio Monteverdi proprio sul tema della croce, della passione in sintonia con gli affreschi di Per della Francesca. E da qui iniziano gli appuntamenti dedicati all'organo che proseguono nelle chiese principali di Arezzo ma anche ad Anghiari e Civitella in Val di Chiano. Per l'inaugurazione un concerto dal tema inedito Bacca e Piazzolla nella cornice del chiostro dell'archivio di Stato. Un viaggio dall'Europa al Sud America, dalla Germania, iniziando dalla Germania, verso l'Argentina che è un po' anche il percorso che è stato fatto dagli immigrati europei verso l'Argentina all'inizio del Novecento. Quando dentro alla partitura, dentro alla composizione c'è quello che noi diciamo in termini elevati c'è la musica, nel senso che c'è tutto e Piazzolla ci ha messo tutto. Non è caso, non è stato particolarmente amato dal pubblico argentino poiché lui il tango lo ha veramente modificato, lo ha portato a questa forma di new tango quasi vicino anche un po' al jazz perché ci mette l'improvvisazione e quant'altro. Quando la musica è ben fatta sta vicino a tutto e a tutti. Ieri sera invece uno degli appuntamenti più attesi dell'estate è a Arretina, il concerto al Prato di Massimo Ranieri. Sarà che sono un uomo molto fortunato, sì, lo confesso. Nella mia vita ho realizzato tanti, tanti sogni. Sarà che nonostante tutto non sia più un ragazzino, non ci penso per niente. a smettere di sognare. Ha ancora un cassetto, piano di sogni, Massimo Ranieri, portati adesso sul palco del Prato ad Arezzo. Uno straordinario viaggio tra canto, recitazione, danza, racconti inediti ed ovviamente brani cult da perdere l'amore a rose rosse passando per se bruciasse la città. Massimo Ranieri, cantante, attore e showman, ha portato anche in città il suo tour estivo, tutti i sogni ancora in volo. Uno degli appuntamenti più attesi dell'estate è a Arretina, organizzata dalla Fondazione Guido d'Arezzo. Dai grandi successi ai singoli dell'ultimo album di inediti, appunto, tutti i sogni ancora in volo. Un concerto che oltre al suo incredibile e vastissimo repertorio ha celebrato prima di tutto l'amore. Rose rosse per te, ho comprato stasera, e il tuo cuore lo sa, cosa voglio da te. E devo andare a dire così. A riprendiamoci la scena, rassegna di teatro e musica in undici tappe promossa da Celsvot per l'estate Toscana 2023, arriva il talento musicale di Frida Bollani Magoni, giovanissima e prodigiosa pianista, polistrumentista e cantante, figlia d'arte da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica. Una performance piano e voce in programma martedì 18 luglio alle 21.30 sul palco del Prato di Arezzo. E adesso lo sport. A tre giorni dal raduno precampionato, gli ultimi ritocchi al comunale per il manto erboso, mentre a Rigutino è tutto pronto per ospitare i calciatori a Maranto. Era stato acquistato all'asta due anni fa per 350 mila euro. L'hotel Gemma adesso è pronto per ospitare per la prima volta la preparazione estiva della squadra. L'impianto Giuseppina Conti invece è stato rimesso a nuovo e da lunedì accoglierà gli allenamenti degli a Maranto. L'hotel si trova lungo la strada regionale 71, ha 44 camere, un ampio parcheggio e il ristorante all'interno. L'Arezzo lo comprò nel 2021, si chiamava Galileo Palace. Adesso invece è stato ribattezzato Gemma, acronimo di Gentile, l'ex presidente e a Maranto, e Manzo, l'attuale presidente. È diventato un vero e proprio quartier generale e a Maranto per i ritiri, prepartita per le gare casalinghe. In via di completamento in questi giorni i lavori al centro sportivo Conti. Qui l'Arezzo è atteso per il prossimo lunedì, per il raduno e il primo giorno di lavoro. In cento anni di storia la Valdichiana ha ospitato solo un'altra volta a Ia Maranto nel 1992 a Pergo nel Cortonese. Al comunale infine sono in corso i lavori di carotatura, sabbiatura e concimazione sul Monte Erboso, interventi che permetteranno sin dalle prossime settimane di avere un fondo maggiormente performante, in attesa della semina per la quale invece si dovranno attendere temperature più umidi. La società sportiva Arezzo ha anche comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo il calciatore Marco Fechit dell'Unione Sportiva Grosseto. Estremo difensore argentino, classe 2005, era arrivato nella sessione invernale di trasferimenti in casa a Maranto. Passando al basket invece chi resterà ad Arezzo con l'AMLBC Servizi Scuola Basket? Cosimo Peluchini che farà parte del roster a disposizione di coach evangelisti anche per il campionato di Serie B interregionale. Arrivato in punta di piedi la scorsa stagione dopo due anni nel Val di Sieve è Cosimo Peluchini. Peluchini ha cambiato marcia nel corso del campionato risultando uno degli elementi più positivi da gennaio in avanti, tanto da andare costantemente in doppia cifra di realizzazione nella fase decisiva dell'annata. Peluchini indosserà anche per la prossima stagione il numero 2. Questa perra stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS